buonasera amici ed amiche di rete veneta e ben ritrovati a questa nuova puntata di filo vicenza oggi mi trovo nel quartiere di san bortolo e proprio alle mie spalle i vecchi lavatoi ebbene un po di storia questi lavatoi nascono intorno agli anni 20 per aiutare le massaie case popolari che stanno proprio qui alle mie spalle a lavare i vestiti e le cose di casa poi diverse generazioni vengono qui un luogo non solo di igiene ma anche di socialità e poi insomma intorno alla fine degli anni 70 con la diffusione degli elettrodomestici l'utilità di questi luoghi viene meno e da quel momento lentamente cominciano vedete come potete vedere a essere totalmente inutilizzati e a cadere in questa situazione di evidente degrado ciò che però non è decaduto è il ricordo dell'importanza che questi lavatoi hanno avuto per la nascita e lo sviluppo dei quartieri proprio per questo motivo i liberi pensatori insieme a rete veneta vogliono dare un'alternativa a questi luoghi come partendo da capire cosa farne e quindi proprio qui subentrate voi ascoltatori e telespettatori perché vi chiediamo di votare il solito questionario che trovate nella pagina di liberi pensatori e in quella degli amici rete veneta dove nelle prossime settimane vi chiederemo beh cosa volete per quest'area volete che rimangano così volete che siano ristrutturati volete che venga tolto tutto e fatto dell'altro insomma ecco la palla ora passa a voi a voi per decidere cosa fare di quest'area e quindi io vi saluto vi ringrazio e vi dico alla prossima